Pietro Re, che è inesima sconfitta da parte della Makuta, sarebbe facile enunciare i dati negativi, però c'è qualcosa di positivo che possono tenere fuori da questa gara? Sì, l'atteggiamento con cui abbiamo affrontato la gara, con tutte le difficoltà che abbiamo in questo periodo, devo dire che i ragazzi sono stati bravi ad avere un atteggiamento positivo riguardo alle difficoltà, poi chiaramente dall'altra parte la squadra è una squadra collatata con gente che ha fatto per anni B1, quindi appena vede le criticità le individua subito e loro hanno battuto sui nostri punti deboli e la partita finisce come è finita. Sì, Coccio, la cosa tra le più importanti che c'è in questo momento, al di là di come finita la stagione non lo sappiamo, è di combattere fino all'ultima palla, godersi questa B1 finché ci sarà. Sì, noi faremo questo, l'obiettivo principale per noi adesso è questo qua, affrontare le gare al massimo del nostro impegno, poi i valori tecnici comunque saranno rispecchiati dal campo, però noi faremo questo fino alla fine dell'anno.